Vediamo un esercizio di analisi di un circuito in regime sinusoidale per determinare le potenze nel circuito stesso. Schematizziamo la situazione circuitale in questo modo. Questo rappresenti una parte di un circuito elettrico, questa un'altra parte dello stesso circuito elettrico, e i due siano collegate attraverso due conduttori e supponiamo di conoscere il valore della tensione istantanea tra questi due conduttori, quindi la VdT tensione sinusoidale è la corrente IdT, sempre istantanea, assorbita dalla parte di circuito sulla destra. Del circuito sulla destra noi vogliamo calcolare le potenze sinusoidali che assorbe. Un esercizio di questo tipo è un esercizio molto scolastico, perché difficilmente noi in una situazione reale conosciamo i valori istantanei della tensione e della corrente in termini di andamento sinusoidale, però partiamo da questa ipotesi per sviluppare un percorso che ci consenta appunto di determinare le potenze assorbite dal circuito di destra. Supponiamo quindi che la tensione sinusoidale abbia un andamento di questo tipo, VdT sia uguale, diamo dei valori, scelgo dei valori che poi torneranno comodi nel corso dell'esercizio come calcoli, sia 14,14 come ampiezza, seno di 100T più 30 gradi, misuriamo le fasi in gradi sessagesimali, quindi abbiamo l'ampiezza della sinusoide pari a 14,14 volt, poi abbiamo la pulsazione omega e la FI con V uguale a 30 gradi sessagesimali. Per la corrente scegliamo un andamento sinusoidale di questo tipo, dove di nuovo abbiamo l'ampiezza uguale a 2,83 A, la pulsazione omega ancora pari a 100, come nel caso della tensione, ricordiamoci che per essere in regime sinusoidale effettivamente tutte le grandezze, tensioni e correnti del nostro circuito devono essere isofrequenziali, quindi avere la stessa frequenza e quindi la stessa pulsazione. In questo caso la fase della corrente risulta essere uguale a 0, vedete manca il termine di fase, quindi la fase della corrente in questo caso sarà 0 gradi. Iniziamo la nostra analisi determinando i fasori corrispondenti a questi andamenti sinusoidali. Per i fasori sappiamo che ci conviene utilizzare per l'ampiezza del fasore il valore efficace delle grandezze sinusoidali, quindi dobbiamo prendere il valore dell'ampiezza e dividerlo per radice di 2, quindi avremo per il fasore della tensione V dovremo prendere l'ampiezza 14,14 volt, dividerlo per radice di 2 e in notazione polare indicare come fase della tensione 30 gradi che è il valore visibile nell'espressione nel tempo. 14,14 diviso radice di 2 giustifica insomma la scelta del valore che ho dato all'inizio, lo approssimiamo a 10 volt di valore efficace sempre fase ovviamente 30 gradi e queste sono volt del fasore della tensione. Stessa operazione la facciamo per la corrente quindi il fasore I sarà la sua ampiezza diviso la radice di 2 con fase abbiamo detto 0 quindi 2,83 diviso radice di 2 anche in questo caso è stato scelto per ottenere un'ampiezza un valore efficace intero pari a 2 a 2 ampere angolo di fase 0 e questi sono gli ampere della corrente. diamo una rappresentazione grafica di questi due fasori in modo da vederne chiaramente le relazioni in termini di angoli e di sfasamento. Disegniamo gli assi del piano di Gauss quindi asse dei reali, asse delle immaginari, abbiamo che il vettore della tensione ha un angolo di 30 gradi quindi approssimativamente diciamo che questo sia il fasore della tensione mentre invece la corrente è a fase 0 quindi giace completamente sull'asse dei reali quindi si troverà in questa posizione e vi ricordo che le scale per la rappresentazione dei fasori della tensione della corrente le posso scegliere indipendentemente una dall'altro rappresentando grandezze non omogenee quindi tensione in volt e corrente in ampere non sono obbligato a rispettare la proporzione tra i valori efficaci quindi tensione pari a 10 volt e corrente pari a 2 ampere non mi obbliga a indicare i fasori sul piano sul diagramma vettoriale quindi con il fasore della corrente 5 volte più piccolo del fasore col quale ho rappresentato la tensione proprio perché sono grandezze non omogenee quindi posso scegliere scale diverse per le tensioni rispetto a quelle delle correnti quindi la scelgo in modo che mi è comodo per una rappresentazione grafica facilmente leggibile l'angolo di fase della tensione Fv è 30 gradi quindi questo angolo qua Fv che è uguale a 30 gradi e rappresenta anche l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente in questo caso infatti noi per definizione l'angolo di sfasamento Fv fra tensione e corrente è data appunto dalla differenza della fase della tensione rispetto alla fase della corrente ovviamente stiamo parlando di tensioni e correnti coerenti rispetto al circuito che stiamo esaminando quindi stiamo parlando della tensione ai capi di quello che qua possiamo comunque considerare un bipolo essendo accessibile da due terminali con la corrente che viene assorbita dal bipolo vi ricordo anche che il fatto che noi scegliamo la corrente entrante nel terminale dove abbiamo indicato il segno più della tensione questo è per rispettare il per rispettare la convenzione dei segni in particolare la convenzione dei segni per i bipoli passivi quindi torniamo al alla determinazione della sfasamento fra tensione corrente questa sarà uguale quindi nel nostro caso a la fase della tensione 30 gradi meno la fase della corrente che è 0 gradi e quindi coinciderà ancora ma solo in questo caso particolare con l'angolo pari all'angolo di fase della tensione caso particolare questo perché il fasore della corrente risulta essere sul sull'asse dei reali quindi a fase nulla avendo a disposizione l'angolo di sfasamento fra tensione corrente comunque coincide con con questo vi ricordo che l'angolo di sfasamento fra tensione corrente lo determino immaginando di far ruotare il fasore della corrente fino a sovrapporsi al fasore della tensione è il verso di percorrenza della rotazione che io faccio fare al fasore della corrente mi indica il segno dell'angolo di sfasamento quindi come in questo caso il verso di rotazione è a anti orario avremo che l'angolo essendo gli angoli misurati positivi in senso anti orario risulta essere maggiore di zero in questo caso quindi abbiamo come si vede anche graficamente ma questo valore della fase me lo conferma che la tensione in anticipo sulla corrente o viceversa la corrente risulta essere in ritardo sulla tensione dell'angolo pari a 30 gradi a questo punto abbiamo tutto ciò che ci serve per determinare le potenze complesse partiamo dal dal valore della potenza attiva prendiamo un po di spazio valore della potenza attiva lo ricavo dall'espressione canonica della potenza attiva dalla sua definizione p è uguale al prodotto dei valori efficaci del fasore della tensione del fasore della corrente per il coseno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente che vi ricordo prende anche il nome di fattore di potenza andando a sostituire i valori del nostro esercizio abbiamo che il valore efficace della tensione è 10 volt il valore efficace della corrente è 2 ampere e quindi ho 10 per 2 per il coseno dell'angolo di sfasamento che è 30 gradi quindi sostituiamo ancora i valori 10 per 2 sono 20 coseno di 30 gradi vale 0,866 approssimato ovviamente questo valore ci porta al risultato di circa 17,3 watt possiamo ripetere il percorso appena fatto per il calcolo della potenza reattiva partiamo dalla dalla definizione di potenza reattiva dalla sua espressione sempre il prodotto dei valori efficaci tensione corrente però questa volta per il seno dell'angolo fi quindi andiamo a sostituire i valori e abbiamo ancora 10 per 2 questa volta per il seno di 30 gradi e quindi abbiamo 20 per il seno di 30 gradi e pari a 0,5 quindi questi sono 10 var fatte sempre attenzione all'unità di misura da attribuire alla potenza watt potenza attiva var potenza reattiva una volta conosciute la potenza attiva e la potenza reattiva assorbita dal bipolo possiamo determinare la potenza complessa s soprallineato che sappiamo essere quel numero complesso che ha come parte reale la potenza attiva e come parte immaginaria la potenza reattiva e quindi sostituendo i valori è quel numero complesso che in questo caso a parte reale pari a 17,3 e parte immaginaria pari a 10 se rappresentiamo sempre sul piano di gauss la potenza complessa abbiamo che la componente reale sull'asse delle ascisse è pari alla potenza attiva p la componente immaginaria sull'asse appunto delle ordinate è q quindi nel nostro caso p è 17,3 e q è 10 la potenza complessa non è altro che rappresentata dalla composizione delle sue due componenti reale immaginaria quindi questa sarà la potenza complessa s è l'angolo che si forma nel triangolo delle potenze è sempre l'angolo di sfasamento fi quindi sarà anche in questo caso uguale a 30 gradi angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente vi ricordo qua ho dimenticato di segnarlo che l'unità di misura della potenza complessa è volt ampere quindi 17,3 più j 10 volt ampere il modulo della potenza complessa lo posso determinare in vari modi quindi s è dal triangolo rettangolo posso calcolarlo come p quadro la radice quadrata di p quadro più q quadro ma è anche dato da il prodotto dei valori efficaci v per i quindi 10 per 2 uguale 20 volt ampere grazie 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 giuci